... Sembrava una bomba invece a un palo di cemento. L'oggetto rinvenuto ieri pomeriggio in un'abitazione in via strada stretta a Villazzano. Lo hanno stabilito gli artificieri arrivati da Bolzano per esaminare il singolare ritrovamento. Mentre erano in corso lavori per estirpare una pianta da sotto le radici, era spuntata una sorta di capsula in ferro che in un primo momento aveva fatto pensare ad un ordigno bellico.